Ospite negli studi di Cronaca 4 abbiamo quest'oggi Walter Andretti, segretario generale della UIL Spezzina e con Andretti affronteremo i temi che hanno animato il dibattito politico locale negli ultimi tempi. Partiamo subito da questo novembre, è stato un novembre importante per Spezia, c'è stata la firma di Malacalza, la sua settimana a Camera hanno raggiunto la firma del memorandum, partiamo dalla reindustrializzazione dell'area ex San Giorgio, lei aveva detto a suo tempo aveva dichiarato 10, 100, 1000 Malacalza. Dunque io, parafrasando un po' le cose che state dette alla manifestazione del 9 ottobre a Roma dal segretario Bonani della CIR, la manifestazione della CIR e della UIL, una grande e imponente manifestazione di oltre 100.000 persone, Bonani diceva 10, 100.000 a Pomigliano. Cosa vuol dire dentro questa cosa qua? Che è ovvio che in un accordo sindacale come quello di Pomigliano e anche quello della San Giorgio, è ovvio che il sindacato per poter attirare lavoro sia a Napoli che alla Spezia deve cercare di fare degli accordi e spesso e volentieri questi accordi non piacciono a tutti, perché è vero, insomma, cosa c'è dentro questi accordi? C'è flessibilità, c'è un po' di deregulation da un punto di vista, però parendesi di piccoli diritti sindacali che oggi più che mai per poter tenere l'industria in Italia e anche la Spezia, uno sindacato ragionevole, insomma, deve concedere. Qui alla Spezia, insomma, tutte e tre le sindacali, Fim, Fiamo, Wilm, Cegiale, Cidle, Wil, hanno fatto questo accordo con Malacanza, per cui insomma, noi siamo molto contenti. Abbiamo lavorato, io non dico sulle divisioni della politica genovese, però io mi permetto di dire quasi, perché insomma, le aree che erano state promesse a Malacanza erano, uno, erano delle aree demagnali, non di proprietà, per cui tra 5-6 anni magari arrivava un altro sindaco o un presidente dell'autorità portuale diceva, io rivolgo queste aree, come già è successo alla Spezia nel passato. Queste sono aree di proprietà, per cui noi diamo per scontato che Malacanza, insomma, rimarrà sempre qua. La commessa di Malacanza è 4-5 anni, più ci sono delle altre ipotesi, comunque insomma, queste sono il lavoro che sta facendo Malacanza, ha vinto questa commessa internazionale, 160 milioni di euro, che insomma, è parecchia roba. Poi insomma, Malacanza investe 60 milioni in una fabbrica. Lì si tratta di cambiare, diciamo, molti capanoni dalla San Giorgio, perché insomma, questi manufatti che vengono fatti per la centrale nucleare in Francia, sono alti 14 metri, per cui ecco perché la San Giorgio potrebbe portare in modo agibile questi manufatti nel porto, farli entrare al Molo Ravano e via. Io credo che, insomma, l'aspetto che molto ovviamente non si è ancora reso conto, però insomma, come all'inizio del 1900, del secolo passato, quando nacque l'Ottomalara, l'Ansaldo, che poi è diventato Fincantieri, insomma, l'Ottomalara facevano insommergibili e l'Ottomalara facevano le armi. Però ricordiamoci che era nel 1900, erano tutte cose armeniristiche che hanno dato lavoro per cento anni a questa città. Ancora oggi, dico, la città della Spezia vive, insomma, di queste commesse. Per cui noi pensiamo che questo nuovo lavoro sul nucleare sia importante per la città della Spezia. Perché dico questo? Perché io penso che comunque 150 persone, non so, magari arriverà anche 200. Poi stiamo parlando di un'azienda importantissima che deve avere in modo collaterale in tutta una serie di piccole e medie aziende che lavorano per fornire, magari, della minuteria, come l'Ottomalara, come la Fincantieri, che non fanno all'interno perché non possono farlo. Per cui vuol dire rifar crescere l'indotto anche di prestigio. Passiamo ora alla questione. A Aram e Acam, c'è stata la fine del memorandum, ci si impegna entro il 2012 per l'integrazione. Ecco, non le chiedo di fare il nostro Adamus, ma cosa parlerà? No, io non è che voglio fare il nostro Adamus. La questione dell'Acam è una questione molto complessa. Prima di tutto, io nel passato, insomma, pensavo che si facessero delle aggregazioni diverse, avrei avuto piacere, insomma, che entrassero anche dei privati. Ricordiamoci che dieci anni fa, quindici, dieci, dodici anni fa, il sindaco Rosai aveva tracciato un futuro diverso per l'Acam, aveva tracciato un accordo con la terra meccanica. Oggi, se questo accordo fosse stato fatto, ci sarebbe un gruppo nuovo alla Spezia, molto evidente sarebbe portato in borsa e le cose sarebbero andate diversamente. 400 milioni di debiti non ci sarebbero stati, io voglio dire che, insomma, questi 400 milioni di debiti li ha fatti Tortola, però voglio ricordare che c'erano 105 persone dei corsi di amministrazioni, per cui ci sono anche delle responsabilità da un punto di vista politico e oggi siamo a fasciarci le ferite. Io non voglio assolutamente né che le organizzazioni sindacali e in principal modo i lavoratori ne facciano le spese, perché io dico sì a ERA, perché oggi comunque è stato firmato l'accordo, io non sono contrario di principio all'aggregazione all'interno di queste multi-utility. Quello che voglio dire è che oggi alle tre abbiamo una riunione con la direzione dell'ACAM, molto a me se li parlerà di nuovo di contratti di solidarietà, noi non possiamo accettare questa cosa qua. La mia organizzazione è una di quelle che si è schierata comunque contro, è stata fra le prime. Perché non possiamo accettarle? Perché i contratti di solidarietà comunque vanno a ledere certi principi che dicono oggi ci sono 417 impiegati, non li abbiamo assunti noi. Li sono stati assunti dalla direzione dell'ACAM, per cui voglio dire perché devono fare le spese questi lavoratori che sono incolpevoli di tutto quello che è successo. ricordiamoci che nel passato c'erano tante cose, sono stati creati dei castelli, è stata creata a Camtel, addirittura l'ACAM aveva comprato dei negozi di NRC, è stato un falimento, per cui perché non ho una responsabilità nei confronti di Tortora e anche nei consigli di amministrazione che hanno gestito questa cosa qua. Io dico sì alla ERA, però dico noi i contratti di solidarietà, discutiamo diversamente cosa si può fare, perché non accetto neanche il fatto che comunque Garbini diceva, se non facciamo i contratti di solidarietà di 417 impiegati, facciamo i contratti di solidarietà per tutti i lavoratori che sono recenti e tanti. Noi abbiamo fatto un accordo di San Valentino un anno fa, per cui questo accordo qua per me è ancora buono, deve essere gestito, per cui le responsabilità si deve assumerlo. Io non sono abituato che ogni due mesi si discute, si rimette in discussione gli accordi. Perché sono contrario a questa cosa qua? Perché non voglio trovarmi nella solita situazione della San Giorgio, che in dieci anni abbiamo fatto degli accordi per poter salvare la gente, ma abbiamo fatto tre accordi di ristrutturazione e tutte le volte sono andate via delle persone, in pensione, in mobilità, in cassa integrazione e io questa cosa qua penso che per l'economia spedina non la possiamo più reggere. La vicenda Baglietto, Obermarin, l'oggio di Cattario del Concordato, ecco una soluzione che è approvata, comunque ci sono ancora lavoratori in cassa integrazione? Allora io, la mia organizzazione è stato scritto la categoria dei metallomeccanici e dei chimici, perché i chimici rappresentano l'azienda San Lorenzo, ci siamo schierati per il San Lorenzo, perché il San Lorenzo pensavamo che era la soluzione ideale e giusta, perché ha una struttura tale per poter gestire il baglietto, invece è andata diversamente, perché insomma comunque il Tribunale, la politica, chi più ne ha ne metta. Ha scelto questo imprenditore che è Viaregino, a me lascia molto perplesso, perché c'è un'intervista sua sulla cronaca di Viaregio, giornale La Nazione, dove dice che lui è stato tirato dentro questa operazione. Questa operazione non sta funzionando, perché? Prima di tutto la cassa integrazione e i lavoratori del baglietto deve essere ancora riconosciuta. Secondo, ci sono anche i nostri amici della FIOMA che oggi stanno ripensando che forse era meglio comunque prendere una posizione diversa di non appoggiare Balducci. Io sono contento perché oggi insomma i tre sindacati dei metalmeccanici all'interno del baglietto sono ritornati unitari per contrastare questa linea. Ad oggi cosa c'è? Che i iote non sono stati ripresi in mano. Cosa vuol dire? Che non hanno, come si dice, nessuno, neanche le dite di appalto hanno ricominciato a lavorare all'interno di questo cantiere. Poi Dulcis in fondo, io credo che quello che è successo sia una cosa grave, perché scopro ultimamente che uno dei creditori, un imprenditore francese dello Champagne, addirittura insomma che aveva uno iote in costruzione è diventato socio di Balducci. A me questa anomalia mi sembra un po' strana, insomma io sto vedendo anche i miei avvocati della VIL per vedere insomma di andare a fare una chiacchierata anche con qualcuno del Tribunale. Affrontiamo l'argomento 5TR, ci sono tanti giovani anche che hanno questi contratti che stanno andando in scadenza verso la fine dell'anno nelle cooperative e anche nell'ente parco, come si risolverà? Avete fatto incontri con il commissario? Dunque noi abbiamo fatto parere, prima di tutto devo dire che io, fino a parole contrarie, sono mentalmente, politicamente un garantista e non voglio esprimere assolutamente giudizi su quelle cose che sono successe. Però effettivamente insomma ci sono 200 lavoratori che lavorano all'interno del parco e la nostra preoccupazione di tre sindacati è che insomma venga per un motivo o per l'altro, vengono dispersi insomma questi 200 potenziali lavoratori che potrebbero diventare a tempo indeterminato, perché bisogna anche dire che molte di queste persone sì sono a tempo indeterminato però lavorano nelle cooperative. Io quando sono venuto fuori questo scandalo abbiamo scoperto che la maggior parte dei lavoratori fanno parte di cooperative e non del parco, noi pensavamo comunque che ci fosse un po' di lavoratori dipendenti del parco, per cui abbiamo scoperto che c'è solo un dipendente, addirittura anche la direttrice del parco, credo che abbia un contratto a tempo determinato, oppure addirittura al progetto nel passato. Tutto questo per noi è stato una meraviglia, perché insomma abbiamo sempre pensato che comunque l'impulso che è stato dato sull'occupazione in quei posti lì era importantissimo ed è importante e sarà importante che nel futuro. Quello che vogliamo fare con il commissario del parco, che insomma è una persona esperta, viene stato direttore generale del Ministero dell'Ambiente, conosceva Bonannini bene, perché insomma quando è nato il parco era quello che interloquiva con lui, in principal modo, non è che poi tutti i giorni c'era il Ministro lì a parlare con Bonannini. Per cui noi pensiamo che attraverso già una fase iniziale di cassa integrazione per alcune aziende di potersi alloverdare questi lavoratori. Noi vogliamo assolutamente che il commissario metta anche, abbiamo visto che ha messo a concorso 8-9 posti strategici per il parco, la cosa che non ci piace è che comunque insomma in teoria oggi sì c'è questa cosa qua della permanenza dei 5 anni come residenza nelle 5 terre, però non ci sta bene perché c'è il rischio che molti di questi lavoratori che hanno lavorato da sempre nel parco non possano partecipare al concorso oppure c'è preoccupazione, potrebbero partecipare magari poi non vincere perché ci potrebbero partecipare altre persone che non hanno lavorato nel parco e vincere il concorso. Per cui le aspettative è ovvio che io faccio sindacalista e difendo certe posizioni che delle volte magari nell'opinione pubblica non sono neanche condivise, però insomma mi sembra assurdo che uno abbia lavorato lì, che magari era la ricerca del contratto a tempo indeterminato e poi per un motivo o per l'altro scuse. Ora io credo che questa trattativa sta cominciando ad andare avanti con il Presidente, cioè con il Commissario, con le vice del Presidente e crediamo insomma di poterle risolvere. Ci sono altre questioni insomma che vanno focalizzate perché nel passato non erano state mai messi diciamo i puntini sulla Inche dal punto di vista contratuale perché ci sono le questioni che riguardano i pulmini, ci sono le questioni che riguardano il ristorante, insomma è una cosa che va aggiustata col Commissario. Ecco, Waterfront, favorevole? Luca, io sono favorevole al Waterfront, non da adesso ma da sempre, sottoscritto e il Segretario dell'Ovil Trasporti fa parte del Comitato Portuale, noi abbiamo votato tutti a favore, devo dire che non c'è stato nessuno contrario, quando c'è stata la prima votazione Dulcis in fondo, poi insomma vengono fuori le posizioni dopo, insomma la Spezia è famosa insomma, la Spezia è famosa come città perché facciamo il gioco dell'Occa, no? Si va avanti di tre caselle e poi si ritorna indietro quattro. Incredibile la posizione insomma del Presidente della Provincia, perché la Provincia ha votato a favore e poi dopo insomma ci ha ripensato. Il Waterfront, quello vuol dire? Vuol dire sviluppo, vuol dire occupazione per i giovani, io credo che questa provincia non è che possiamo più permetterci di fare delle fabbriche chimiche, magari ce n'è anche poco, però voi vedete che tutte le volte che nasce una nuova iniziativa, addirittura anche su Marinello, insomma tutti i verdi, i comitati, cominciano a dire che questo non va bene, quando altro non va bene, io credo che comunque il Waterfront, io ho visitato Barcellona trent'anni fa e adesso. Barcellona è cambiata completamente, addirittura trent'anni fa c'erano i cantieri di demolizione lì sul porto, oggi c'è, ci sono stati a novembre quattro anni fa, c'erano navi che arrivavano in continuazione, hanno fatto una bellissima stazione marittima, pieno di piccoli ristoranti e c'è aree che servono anche per il divertimento per i giovani.